Iogina! Sì! Vediamo che le Seven Fighters cercano di sfruttare il loro turno di battuta con il principiale mega servizio della Iogina. È la prima volta in questo terzo set che la squadra in maglia rossa ha la possibilità di andare a servizio e quindi di conquistare un punto. Mega servizio! Parti alla portata della Iogina da punto! Parti alla portata della Iogina! Il mega servizio della Iogina non perdona! Mega servizio!